Che fai? Adi! Sei impazzito! Apri subito! Siamo sull'Atlantico, nella zona morta. Nessun controllo missione, niente di niente. L'allarme è spento e gli altri dormono. Ci siamo solo io e te. Paola, devi darmi le coordinate. Se non mi dai quelle coordinate, sarà tutto perduto. Ti prego, Paola! Perduto per chi? Per me o per te? Paola, non abbiamo molto tempo. Non deve finire così. Dammi le coordinate. Avanti! Perché? Paola, se la notizia diventerà di dominio pubblico, sarà finita. Diventerà una questione politica e potrà finire solo in un modo. Perché fai questo? È una cosa più grande di noi. Per favore. Paola!